Il Seramo risponde come meglio, non avrebbe potuto alle pressioni della settimana post-Migliani, con l'anticipo giocato sul neutro dell'Enrico Nanni di Bellari e Gea Marina e Biancorossi, tornano a brindare tre punti, anichilendo una Iesina in serie positiva da otto gare, con una cinquina di pregevole fattura e rinforzando la propria leadership. Inizialmente, oltre allo squalificato Ciampi e dai Lungo dei Genti, Arcamone e Iazzetta, Mister Capellacci deve fare a meno anche di laboraggine, bloccatosi in settimana per uno stiramento, quello costringerà i box per 20 giorni. I centrocampisti Strapini e Rossi, invece, sono gli unici indisponibili tra i Leoncelli, che scendono in campo con Sebastianelli a supporto del tandem offensivo in vernizi negro. Inizio pirotecnico, la capolista parte bene, già sesto passa grazie al tapin vincente firmato Masini, in un'azione viziata dall'avambraccio di Bucchi. L'1-0 resiste tuttavia solo per 180 secondi, in una classica azione di contropiede, e Sebastianelli a pescare il Gioli con un destro che termina la sua corsa, proprio nel setta alle spalle dell'incolpevole Serraiocco. Al quarto d'ora la dinamica del match muta, il giovane portiere Giovagnoli riporta la peggio da un contrasto aereo con Masini ed è costretto ad abbandonare il rettangolo verde. Visto che il suo sostituto è l'esperto Gnosi, Amaolo è costretto ad un doppio cambio, Rossini è l'altro prescelto, dentro il diciottenne Alessandro Gabrielloni. La reazione della prima della classe si immaterializza già al ventunesimo. Masini è devastante, ci crede, parte dalla propria metà campus, radica letteralmente la sfera dall'ex Gabrielli, punta la porta e con una Veronica degna di altre platee dimostra il giusto altruismo nel servire Libero Bucchi, che davanti a Gnosi conferma tutta la sua freddezza. Il 2-1 è servito. La Iesina non ci sta, affocante in questa incursione aerea gode di eccessiva libertà in piena area di rigore, brivido per la retroguardia di casa. Al quarantunesimo però il diavolo realizza il tris. L'errore difensivo della retroguardia Leoncella è palese, il giovane Petrella non ci pensa su due volte nel punirla, con precisione e coraggio, 3-1. L'ultima chance bianco-rossa è firmata da Masini allo scoccare del quarantacinquesimo. Il suo raso terra si traduce in un semplice leggerimento. I cinque minuti di recupero chiudono un'emozionante prima frazione di gioco sul rassicurante 3-1 per il team di Cappellacci. Dopo il tè caldo, Iesina è insidiosa, con il tentativo sul secondo palo di Gabrielloni. La mira è imprecisa. Il teramo di oggi però è cinico e piacevole a vedersi come ai bei tempi e dal minuto 62 cala il poker. Traini la sfiera di testa, Masini anticipa il ritorno di Frulla e sigla quasi a porta vuota il 4-1. Match in cassaforte. Anche se Scartozzi ci prova da fuori due minuti dopo, l'attento Serra Iocco di oggi fa buona guardia. La gara vede il suo epilogo al 69esimo con un sigillo da rivedere e gustarsi senza farsi tentare mai dalla noia. Lo griffa Petrella con un esterno semplicemente fatato per la personale doppietta. Il suo settimo centro dell'annata si traduce in una rete da cineteca. 5-1, roba da stropicciarsi gli occhi. Sempre di testa, la Iesina bozza una timida reazione grazie al solito Sebastianelli. Serra Iocco ostenta sicurezza. Il Teramo rallenta i ritmi, ma c'è spazio per un'ubriacante azione personale di Bucchi, frenata da Agnosi. Vitone e Petrella si godono intanto il meritato riposo al 79esimo. Il rientrante Borrelli e De Cani li sostituiscono. L'ultima azione degna di nota nasce da un disimpegno errato di Traini, forse per esaltare il pronto riscatto dell'ottimo Serra Iocco di Erno sul positivo Sebastianelli. Il finale non regala ulteriore patos. La mente delle due squadre è già rivolta al prosieguo. La Iesina, ex migliore difesa del girone, subisce un'indigesta cinquina, ma la permanenza in D rimane vicina. Il Teramo si gode un sabato da ricordare e rilancia il guanto di sfida alle sue inseguitrici. Il rascio stagionale prevede un calendario amico tutto da sfruttare. Avanti così!